Proseguono i lavori per ripristinare i danni provocati dalla bomba d'acqua che si è abbattuta sulla costa nella notte fra giovedì e venerdì scorsi. A Marotta, la cittadina più colpita della provincia di Pesore e Urbino, inizia la conta dei danni subiti da residenti e operatori commerciali. Abbiamo predisposto dei moduli che trovate nel sito del comune di Mondolfo, quindi ci sono dei moduli da compilare. Abbiamo anche previsto l'apertura di uno sportello già da oggi, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30 e questo sportello è presso il comando della Polizia Municipale di Marotta. Le domande devono essere presentate entro il 27 giugno 2016 alle ore 13. In alcune vie di fronte alle abitazioni ci sono ancora cattastati mobili elettrodomestici, oggetti vari rovinati da acqua e fango e pronti per essere smaltiti. Per il materiale alluvionato, il sindaco Barbieri si era adoperato fin da subito per attivare il servizio di raccolta. Il primo cittadino poi ha inviato alla regione la documentazione necessaria per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza. Invece, per quanto riguarda il dissesto franoso provocato lungo la strada provinciale 424, ha già sollecitato regione e provincia per la sistemazione. Intanto il comune ha provveduto a mettere un senso unico alternato. Tante le persone che in questi giorni sono accorse per dare una mano. Sì, sono tante. Infatti ci sono stati tanti volontari, tanti cittadini che ci hanno dato una mano, che hanno supportato l'amministrazione comunale. Anche grazie alle autorità competenti. Quindi c'è stato un grande aiuto ed è stato il grande segnale di coesione, di una forte coesione di tutta la comunità. Quindi siamo contenti da questo punto di vista. Le scuole dell'infanzia di Via Betti e Via L'Europa oggi sono state riaperte. La viabilità è stata ripristinata, ma proseguono senza sosta i lavori di ripulitura delle strade. Anche oggi, come continuamente anche gli altri giorni, anche di notte, per sistemare soprattutto la scuola, la viabilità principale e le vie principali dove c'è lo scorrimento, dove c'è il deposito dei materiali che ha lasciato sia i residui che tutti i cittadini che hanno tirato fuori i loro danni e tirano via il fango, l'ultimo rimasto, che poi con l'idropulitrice si porta in sicurezza la strada soprattutto. E in particolare quali sono le vie ancora da ripristinare e da sistemare? L'importante è che c'è rimasto Via L'Ecarducci, che è l'ultima parte che però è da ripulire solo nel settore dell'acqua. Il fango è stato tolto, il fango l'abbiamo tolto dappertutto e perciò la sicurezza adesso l'abbiamo ripristinata, non c'è più problemi. Stiamo solo facendo le ultime ripuliture con l'acqua per rendere accessibile e sicura la strada e la viabilità.